Va benissimo il nuovo ospedale, per carità, ma allo stesso tempo dobbiamo concentrarci sui servizi che abbiamo, potenziarli, qualificarli a livello di una maggiore qualità dei servizi sanitari, concentriamoci su questo, concentriamoci sul salvare il più possibile la salute dei nostri concittadini. L'ospedale va bene, però la prima cosa è curare le persone. Io ho detto da principio e continuo a dire che benvenga il nuovo ospedale, come credo ognuno possa augurarsi, ma non è questa la priorità di Sernia, l'ospedale deve essere riqualificato perché in questi ultimi dieci anni è stato notevolmente, purtroppo mi vuole dirlo, dequalificato. Il problema dell'emodinamica è la punta dell'iceberg, ma l'ospedale ha bisogno di un sostegno, di una riqualificazione in tutti i settori, quelli che sono scomparsi e quelli che stanno per scomparire, perché non possiamo pensare che va via un medico e va via un servizio, perché non ci sono alternative. Mi riferisco a tante all'oculistica, all'otorino, alla neurologia, all'unologia, ci sono settori che devono essere, sia pure sotto forma di SPOC, cioè non implementati come l'ospedale principale, ma devono avere una presenza specialistica che garantisca ai cittadini di poter avere tutte le cure indispensabili.